Bene, Silvia, vieni a farti il look anche tu! Sì, cara, guarda qua, stai! Scusate le spalle! Aspettate! Cosa succederà? Oggi è mezza giornata, devo da chiudere! Guarda un pochino, ragazzi, questa è una cosa speciale, la Silvia sta cambiando il look! Stiamo vestendo il look! Guardate i preparativi, i preparativi per la Silvia Rosio! Queste cosa sono? Eccola! Eccola qua! She's a killer Rosio! Potevamo stupirvi con effetti speciali, ma noi di Dietro le Quinte facciamo di più! We were Rock You! We were Rock You! Tutto può succedere! Ciao! Ci vediamo! Yeah!